Mi sentivo a casa fino a un attimo prima e adesso all'improvviso un'etichetta che è bella persona che sono, per lo scone di dire il vero si era abitato in fretta, tanto che mesi prima aveva cessato di concedere a me la Repubblica, l'intervista in cui rivela di aver avuto un cancro, ma la reazione di quella farmacista non me la sono dimenticata. L'importante è sempre pensare a rimanere se stessi, tenere fede alle proprie idee, rispettare la propria storia. A quel punto si può entrare serenamente ovunque, quasi ovunque. Ho il sesto senso, ma lo sento e ci sono luoghi in cui a un certo punto percepisco qualcosa nell'aria che mi suggerisce di andarmene. Ricordo una sera nel 92 una festa, non mi piace il clima, non mi piacciono i discorsi, comincio a stare sulla spina, finché colgo una frase. Stanno discutendo di mia amata, prendo il fiato, mi fermo ad ascoltare, sta parlando una donna. Che schifo la vedova, l'hanno riempita di soldi e fa anche la vittima, parla, parla.